Siamo qui a Villa Valero dove è stata allestita la mostra De Natura e siamo qui con il curatore Valeria Cergini che ci illustrerà quali dipinti e quali artisti sono presenti. Allora in questa collettiva sono presenti l'artista olandese Evie Wingerling, l'artista cinese Chen Li e l'artista italiano Daniele Fabiani. In questa prima stanza che troviamo? Allora in questa prima stanza troviamo le opere della cinese Chen Li e dell'olandese Evie Wingerling. In questo caso specifico ci troviamo di fronte quindi alle opere di Chen Li, l'artista ha una sua lettura quindi della natura molto orientale legata quindi alla botanica, ai giardini orientali, a tutto quel canone della natura armonica che lei va a rappresentare e va a rappresentare quindi l'armonia che c'è e il contatto quindi con la natura molto più vicino e molto però più legato a una natura botanica quindi ha un interesse più al floreale. La stessa artista quindi ha assunto quindi un carattere sistematico collezionando immagini che spesso lei stessa scatta all'interno di giardini botanici in Cina, più specificatamente a Pechino, la città di cui lei è originaria o allo stesso tempo all'interno quindi di nature floreali che incontra nel suo quotidiano. Quindi queste rappresentazioni sono come delle rappresentazioni spontanee della natura che ci circonda e che lei in quanto appunto artista riesce a cogliere nei dettagli ed esprimere in modo spontaneo e quasi sorprendente. Lei stessa dichiara di sorprendersi nel momento in cui termina quindi un dipinto. Non c'è una volontà di intenti ben specifica e di lineata ma una ricerca e un interesse appunto come dicevo per quello che è l'elemento botanico e l'elemento floreale che per lei ha una funzione non solo quindi artistica ed estetica ma anche una funzione più legata veramente a quella che è la natura umana. Spesso nei suoi dipinti si possono incontrare nei dettagli elementi appunto della natura floreale come petali o foglie che assumono un carattere umano. Questo fitomorfismo che incontriamo è appunto una sua caratteristica e la peculiarità di quest'artista è che in qualche modo cerca di incarnare o nel caso contrario di rendere quindi fitomorfico un contenuto botanico e renderlo quindi più vicino all'uomo e viceversa. Grazie a tutti. Proseguiamo il nostro percorso, siamo ora nella seconda sala, chi troviamo? Troviamo l'artista olandese Evie Wingerlin insieme ad altri lavori di Daniele Fabiani e di Chen Li. In questa sala ci dedichiamo quindi all'artista olandese che anche lei, un po' come abbiamo già incontrato nell'artista precedente in Chen Li, degli elementi naturali, elementi che richiamano quindi la naturalità e spesso quello che è il vissuto. L'artista nel caso specifico ha l'interesse nel mascherare quella che è appunto la natura che la circonda sebbene spesso questi elementi completamente astratti ed estragnati dalla realtà assumono quindi un carattere pittorico completamente astratto. Il tratto e la stessa cromia non hanno alcunché a che fare con la natura, ma la stessa artista anche in questo caso dichiara di avere recuperato attraverso fotografie, dettagli o anche stessi bozzetti che lei realizza andando in giro per le strade. Lei è olandese, vive a Indovene e gli spazi della natura sono ancora comunque vivi sul territorio e spesso racconta che nelle passeggiate con la figlia, nelle giornate più piovose, la luce che cade sulle foglie hanno questa magia e questo silenzio che va a racchiudere poi all'interno dei suoi dipinti. Evi Wingerlin è un artista già in qualche modo con un suo vissuto, un suo trascorso artistico già più matura rispetto agli altri artisti e ha assunto quindi un linguaggio forse più legato e specifico è legato a quella che è la natura olandese e quindi questa figurazione che va a scomparire allo stesso tempo riemerge attraverso questi dettagli che effettivamente ricordano quelli che sono appunto degli elementi naturali. Sebbene l'artista stessa cerchi sempre di, appunto attraverso il colore, come dicevo, è il segno di camuffare e allo stesso tempo cerca in tutti i modi di eliminare ogni dettaglio secondo anche quello che è la mancanza di un titolo. Ogni suo dipinto è untitled, senza titolo proprio perché non vuole dare alcun riferimento all'osservatore che deve essere in qualche modo il più neutro possibile nel momento in cui si approccia alle sue opere e provare sentimenti ed emozioni, forse quel silenzio che lei spesso ritrova nelle passeggiate e che racchiude quindi nei suoi dipinti. Siamo arrivati all'ultima stanza, quale artista troviamo qui? Allora qua troviamo Daniele Fabiani, Daniele Fabiani è l'artista che ha anche l'installazione presente al municipio ed è anche l'artista che è stato in residenza. La sua caratteristica e la sua peculiarità principale è quella di inserire all'interno delle sue opere che siano installative o come in questo caso pittoriche sempre dei collage che possono essere o degli elementi decorativi realizzati su carta da lui direttamente, quindi c'è sempre questo elemento grafico molto forte all'interno di questi suoi dipinti e anche elementi sempre di collage inseriti attraverso quelli che sono degli elementi grafici architettonici che lui stesso ritaglia inserendoli un po' come se fosse veramente una sua cifra stilistica, un richiamo a quella che è la classicità dell'arte, a una figuratività veramente legata a tutto il mondo dell'arte più tradizionale che lui estrapola da questi manuali per inserirli all'interno di questi suoi mondi, mondi quindi dove la natura prevarica ed è quasi forse un elemento quasi fiabesco perché ci sono questi inserti naturalistici e architettonici che trovano un'armonia all'interno dei suoi lavori che hanno soprattutto un'attinenza legata a quelle che sono le origini l'artista essendo della Valcamonica sono presenti all'interno quindi del territorio incisioni rupestri che lui spesso utilizza e ricava attraverso semplici stencil di quelli che sono appunto queste incisioni e inserisce all'interno del dipinto questa accezione storica quindi è uno degli elementi più importanti e che meglio denotano la sua arte e gli elementi naturali come nel caso dell'installazione giardino alle nostre spalle in qualche modo va di nuovo a consolidare questa sua attinenza al territorio quindi alla montagna, alle valli della Valcamonica ma allo stesso tempo alla natura quindi questo confronto e questo dialogo fra arte e natura e nel caso specifico suo architettonico per quanto riguarda anche tutte le installazioni che spesso nel caso specifico suo hanno sempre un elemento naturalistico ma architettonico legato quindi alla natura dell'uomo quindi a quelle che sono gli edifici a tutta la parte più costruttiva edificante dell'uomo si vanno a congiungere all'interno delle sue opere con questi elementi e con questa tecnica che richiama quindi l'arte del passato grazie a tutti